Vi presentiamo la nuova scarpa Lowa Vivione, modello nuovo specifico da donna, con una calzata super confortevole per la donna, abbiamo ovviamente tutti i features della Lowa con suola Vibram, con il sistema SPS che è un sistema antipronazione e antisupinazione, abbiamo poi il nuovo sistema FlexFit che garantisce un'ottima distribuzione della pressione nella lacciatura, abbiamo chiaramente anche il nostro brevetto X-Lacing Fixing che blocca l'escursione della linguetta e soprattutto abbiamo anche il nuovo sistema Flex con una maggior flessibilità del collarino. Su una scarpa così molto importante non può chiaramente mancare la fodera in Gore-Tex e e oltre a questo abbiamo inserito anche in punta e nel tallone delle protezioni in gomma in maniera che la scarpa sia protetta da ghiaglioni sassi.